La collaborazione con GATUS e il progetto del corso IFTS nasce con un duplice obiettivo. Il primo è quello di formare i ragazzi che escono dagli istituti di ragioneria o istituti similari, ma nasce anche e soprattutto con l'obiettivo di formare questi ragazzi e portarli al nostro studio. Diamo agli studenti, ai ragazzi, la possibilità di conoscere quelle innovazioni tecnologiche che adesso saranno sempre più presenti per le imprese, ad esempio la fattura elettronica. In questo corso noi insegniamo praticamente come gestire e come usare la fattura elettronica. Il 96% dei ragazzi che hanno fatto il corso IFTS sono stati poi assunti dalle aziende o dagli studi, con uno stagio extracuricolare, con un apprendistato. L'esempio più pratico sono io. Ho preso due ragazzi, due stagisti, tre anni fa e ancora oggi sono all'interno del mio studio e fanno parte della mia forza lavoro.